La scelta di Renault ferma la quotazione in borsa della divisione elettrica Ampère, ma soffrire è l'intero settore. L'elettrico, a quanto pare, non decolla. Il gruppo Renault ha annunciato che Ampère, la divisione dedicata allo sviluppo software e alla produzione di veicoli elettrici, non debuterà in borsa. Il lancio era in programma nella prima metà del 2024, ma era stato rimandato in precedenza. Ma la realtà è che il mercato non decolla e non soddisfa gli interessi del gruppo Renault e i suoi azionisti e di Ampère. Non pare il momento appropriato. A mio parere, l'introduzione brusca e imposta e soprattutto a caro prezzo, senza contare la mancanza di colonine e problemi di autonomia, lascia incerti i futuri acquirenti. Il CEO Luca De Meo, a novembre, aveva promesso che Ampère era ben posizionata per raccogliere la crescita del mercato europeo, dei veicoli elettrici, ma qualcosa è andato storto. Forse pensavano che a distanza di pochi mesi qualcosa sarebbe cambiato. La speranza era che la valutazione del nuovo progetto elettrico arrivasse intorno agli 8 miliardi di euro, con un fatturato di 10 miliardi nel 2025. Secondo gli analisti di UBS, il valore di Ampère si aggirerebbe non oltre i 4 miliardi. Il colosso transalpino ha in agenda la produzione di 7 vetture elettriche entro il 2031, con l'obiettivo di abbattere i costi del 40% in 4 anni. Sicuramente intendono di abbattere il costo di produzione, ma non quello al cliente. Ma il caso Renault non è isolato e riflette invece un clima internazionale delle quattro ruote elettriche. Diciamo in modo semplice senza i dati di borsa. Le auto elettriche, spinte dall'ideologia green, è stata troppo precipitosa e tutte le conseguenze che comporta per l'utente. I casi di incendio, rifornimenti non ancora al top, assicurazioni elevate, il costo vettura, manutenzione costosa, non ne fa un prodotto ambito.